E' stato convocato per lunedì 19 novembre alle ore 19 il Consiglio Comunale di Eboli. All'ordine del giorno l'estinzione anticipata dei mutui contratti con cassa depositi e prestiti, l'istituzione, la rideterminazione dei diritti di segreteria per le pratiche del SUAP e la problematica attinente alla gestione delle procedure di gara da parte del Comune. Argomento quest'ultimo approdato in Consiglio dopo la richiesta ufficiale della minoranza. Grazie a tutti.